Santa Margherita Ligure, uno dei personaggi della storia, che sono rimasti incantati dal paesaggio del Tigulio, è il compositore finlandese Sean Sibelius, il quale scrisse una delle sue opere proprio mentre si trovava a Rapallo. Tre anni fa, per il centenario di Sibelius, partì la prima edizione del Sibelius Festival, virgola iniziativa cultural musicale, organizzata tra il Golfo Paradiso e il Golfo Tigulio, che ha riscosso successo anche in Finlandia, e che gli organizzatori, Associazione Culturale Acreiba, hanno voluto proseguire. Ed ecco che la terza edizione del Sibelius Festival, Golfo del Tigulio e Riviera Ampia e suoi confini. Al via venerdì 22 settembre, si svolgerà fino al 15 ottobre tra Santa Margherita, Zoagli, Chiavari, Recco, Sori e Boiasco, a conferma di un crescente interesse da parte delle località rivierasche. La manifestazione è stata scelta e inserita nel programma ufficiale delle celebrazioni del centenario di indipendenza della Finlandia. Il calendario prevede conferenze e concerti con artisti provenienti dall'Italia, dalla Finlandia e dagli Stati Uniti. Tra le novità di questa edizione l'esecuzione della Sinfonia N2, che Sean Sibelius compose durante il soggiorno nel Tigulio, 1901. Eseguita in tutto il mondo, non è mai stata presentata in Liguria. Sarà protagonista l'orchestra del Conservatorio di La Spezia, diretta da Giovanni Di Stefano, venerdì 14 ottobre, alle ore 20 nella chiesa di San Siro a Santa Margherita Ligure. Nello stesso giorno, alle ore 17 nella sala consigliare del Comune, l'ambasciatore di Finlandia in Italia, Giannetta Alas, sarà in visita a Santa Margherita Ligure, dove terrà una conferenza sui cento anni di indipendenza della Finlandia. Nella seconda settimana di ottobre, spiega il professor Federico Ermirio, direttore artistico del Festival, sarà presente a Santa Margherita Ligure una delegazione finlandese di oltre 30 persone venute in Liguria appositamente per assistere ad alcuni concerti e conferenze in programma. Vorrei ringraziare tutti i comuni che ci supportano, in particolare quello di Santa Margherita Ligure, che ha creduto fin da subito nell'iniziativa. Soddisfatto il sindaco di Santa Margherita Ligure Paolo Donadoni. Sono lieto che il Sibelius Festival cresca di anno in anno, e che stia diventando un collegamento tra la Liguria, e il Nord Europa. Un esempio di come l'arte e la musica si leghino al turismo.